Raga io ritorno ad allenarmi, Foodspring mi ha mandato il Muscle Pack Large, se andate sul link potete vedere tutti i prodotti perché ne manca qualcuno, ce ne sono anche altri E niente, io adesso prendo gli Energy Aminos per iniziare l'allenamento con la giusta calica All around me are familiar faces, Worn out places, Worn out faces Worn out Worn out